Lei sarebbe favorevole o meno alla ripresa del campionato? Ma guarda, io sono un grande tifoso di calcio, però in questo momento mi sembra che sia estremamente complesso riprendere il campionato. Secondo me, vede che hanno ricominciato gli allenamenti e hanno già trovato degli atleti che sono contagiati. Io credo che forse varrebbe la pena anche per il calcio di fare una sospensione, poi magari di ricominciare a giocare in agosto, di ricominciare a giocare, magari finire il campionato più avanti. Il problema è quello che purtroppo è emerso, si è riunito il Torino e il Torino ha trovato un giocatore che era positivo. Si è riunito alla Fiorentina c'erano tre giocatori. Purtroppo il virus in questi mesi si è diffuso in una maniera incredibile, per cui purtroppo c'è il rischio che se dovessero ricominciare il campionato ne troverebbero altri.